Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Stray Pipe Club Podcast. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, bentornati. Bentornati all'episodio 8 del podcast Senza Filtri. Episotto. Episotto. Siamo pronti con un bel episodietto, bello carico di tante informazioni, di tante notizie. Informazioni. Sì, e energia, esatto. Informazioni utili per tutti, speriamo. Comunque domande alle quali noi fino ad oggi non abbiamo mai trovato risposta e alle quali cercheremo un po' di rispondere, sperando in vostro interesse. Ad esempio, il primo tema che affrontiamo è quello delle auto elettriche, visto che nello scorso episodio si è parlato di mezzi elettrici come la Vespa e la 500, che sono un po' alla portata di tutti. Vogliamo capire e ci siamo chiesti, ma tutte queste auto elettriche che un domani dovessero esserci, avranno a disposizione l'energia elettrica per alimentarsi? Sì, perché, insomma, ce ne vuole tantissimo e quindi ci siamo chiesti, ma ci sarà l'energia a disposizione per ricaricarle o no? Esatto. Poi parleremo di un argomento davvero al passo coi tempi, io direi. Direi di sì. Perché, perché, Franci? Allora, perché faremo un confronto tra le forme di acquisto, o meglio, non di acquisto, ma di possesso di un'auto. Per cui, appunto, l'acquisto, il noleggio, il leasing o il finanziamento e cercheremo di districarsi in questo mondo di offerte o di prezzi o di assicurazioni e cercheremo di arrivare al punto e dire conviene questo o conviene quello. Sì, perché sono tutte valutazioni che magari uno da solo, se non ha un bisogno imminente di comprare un'auto, non si mette lì a fare. Esatto. Facciamo chiarezza. Concluderemo con un mio piccolo racconto e torneremo a parlare di mobilità. Esatto. Per cui vi racconterò come sono sopravvissuto senza auto sei mesi. Come abbiamo promesso in uno degli scorsi episodi. Esatto, esatto. Pronti via. Grazie. Eccoci, eccoci, iniziamo subito con il cuore del nostro episodio, la prima parte. Per cui, già in introduzione vi abbiamo raccontato un pochino qual è la questione che ci stiamo ponendo oggi. Quindi, con il sopraggiungere di auto elettriche più o meno alla portata di tutti, ci stiamo chiedendo ma la nostra rete di energia elettrica potrà supportare questa richiesta aggiuntiva di energia? Avrà impatto sul costo dell'energia elettrica? Della serie. Tutti alle 8 di sera stanno ricaricando la propria auto elettrica dopo la giornata, ma ci sarà energia abbastanza o le infrastrutture dovranno... O restiamo al buio. O restiamo al buio, cioè, o qualcuno dovrà adeguarsi. No, perché mi immagino la scena tu davanti a Netflix la sera, tacchi la macchina, blackout. No, davvero no. Non può esistere una cosa di questo tipo. Ma poi, pensiamoci. Computer, telefono, cioè, tutto ormai è elettrico. Tutto, quindi... Pensiamo anche a più in grande nelle aziende, i macchinari, insomma. Esatto. Grandissimi kilowattazzi. Esatto. Andrea, informaci. Allora, ragazzi, secondo una nota rivista, di Automotive ovviamente, si sono posti questa domanda. Se ci fossero un milione di auto a batteria in Italia, la rete elettrica sarebbe in grado di soddisfare la domanda? Secondo voi? Allora, io vi dico, secondo me... sì. Perché, di fatto, la nostra rete elettrica, penso, sia nata per supportare centri abitati, eccetera, eccetera. E, a mio parere, se confronto la quantità di energia di cui ha bisogno un'auto rispetto alla quantità di energia di cui ha bisogno un'azienda, ok, che è decisamente inferiore, se penso a questo rapporto e penso che la nostra zona, che comunque è di fatto industriale, è nata comunque, ha un'infrastruttura di diritto elettrico basata sulla possibilità che nuove aziende possano aprire, la mia risposta è sì. Mi faccio allo stesso tempo, però, un'altra domanda. Penso magari alle zone un pochino più rurali o alle zone un pochino meno industriali. E allora, a quel punto, una rete che nasce magari per sostenere il fabbisogno di un uso civile, per cui i 3,5 kg famosi, che usi per fare la pizza e per fare... e usare il frigorifero, allora forse no, non lo so. Tu hai qualche informazione in più, Franci, cosa ne pensi? A me piacerebbe fare anche un ragionamento del tipo, chissà quanto tempo ci ha voluto per costruire una rete di rifornimento carburante che riuscisse a supportare tutto il fabbisogno che abbiamo e pensare che dall'oggi al domani potremmo essere in grado di supportare un fabbisogno di energia elettrica equivalente. Insomma, è una bella sfida. Forse è anche utopistico, no? Eh, esatto. Nel senso che è vero però quello che dici, perché davvero quanti anni ci sono voluti. Abbiamo un carburante, insomma, tre in una strada e... Nulla si è creato dall'oggi al domani, diciamo, quantomeno finora. Di conseguenza, all'inizio, come la solita frase classica degli aerei, all'inizio sai chi si sarebbe mai immaginato che l'uomo potesse volare? Dopo qualche decennio, non lo so, comunque, si è arrivati anche a quello. Quindi, diciamo che io anche prima di leggere l'articolo pensavo si evolverà di pari passo. In realtà, però, la risposta che ci danno queste analisi è abbastanza, secondo me, sorprendente perché la risposta secca è sì. Cioè, l'energia elettrica, se domani ci fossero un milione di auto elettriche in Italia, basterebbe. E questo ci dice l'articolo che lo studio ha analizzato quali potrebbero essere le ripercussioni sul sistema elettrico nazionale a fronte, appunto, di questo scenario. Con particolare riferimento alla necessità di potenziamento delle centrali di generazione elettrica o delle reti di trasmissione e distribuzione. Perché ci sono anche quelle, c'è chi la fa l'energia e chi la porta in giro. Esatto, bisogna avere le colonie, insomma, in giro anche. Quindi, secondo le stime, il valore in terawatt ora... Sì, una unità di misura dell'energia. Perfetto. Il kilowatt è il kilowatt, il tera è mille volte il kilowatt, credo. Correggetemi se mi ascoltate, ho sbagliato. La richiesta in più di energia che sarebbe necessaria per queste milioni di auto elettriche sarebbe in realtà irrisoria se confrontata con il totale della domanda energetica nazionale superiore a, ci dice, 350 terawatt ora l'anno. Ok, quindi è un po' il ragionamento che facevo io all'inizio, forse. Quindi rispetto al fabbisogno di altre tipologie di utilizzo, penso davvero a quello industriale, Forse è irrisorio questo, ma la domanda che mi sorge spontanea adesso è che fonti dovremmo utilizzare per avere questa energia in più? Perché sapete che il punto forte, o quantomeno, è il motivo per cui l'automobile elettrica è stata creata nei giorni nostri e è stata rivalutata perché vi ricordo che in passato esistevano già modelli di auto elettrica, in passato mi riferisco anni 60-70. Anche prima in realtà so che esistevano modelli, avete presente la Ford modello T, cioè proprio le prime auto? 1930. Esatto, anche 20. C'era, avevo visto una volta, una vettura che aveva un motore elettrico, non so... Ma non c'era convenienza nell'utilizzare l'energia elettrica piuttosto che l'amburante. Dicevano, ma abbiamo il petrolio, che cosa ci serve a fare l'auto elettrica? Tanto l'inquinamento non sapevano neanche cosa fosse, quindi... Esatto, mentre invece nei tempi più recenti l'elettrico è tornato in voga appunto perché è venduto come più sostenibile ambientalmente. Però se poi l'energia elettrica viene prodotta con il carbone, perché non so se lo sapete ma in Italia, e non solo, il carbone, che sembra una roba da 1800, è ancora una delle fonti primarie di energia. E infatti io vorrei arrivare a questo punto e dire, ok, va bene, ce la faremo energeticamente, ma poi nella pratica comune com'è che sarebbe? Ci sarebbero le colonine in giro? Ognuno avrebbe la sua spina in garage? Come potrebbe essere questo modo di organizzare? E quello che piacerebbe a me sarebbe proprio che ogni casa avesse i suoi pannelli solari che riuscissero a garantire elettricità a parte per tutti gli elettrodomestici, ma anche elettricità per le cose extra. Vedi la macchina elettrica, per cui invece che vendere l'energia elettrica in avanzo, la si utilizza per la propria autovettura piuttosto che comprare carburante per un'altra vettura a scoppio, a motore termico. Allora, noi non siamo un podcast che parla di energia, quindi entrare nei dettagli... Anche se comunque è molto onerente il tema. Esatto, per cui entrare nei dettagli delle pro e dei contro dei pannelli fotovoltaici forse non spetta a noi. Diciamo, nell'immaginario collettivo, il pannello sopra casa che alimenta tutto il sistema casa, quindi casa e vita in casa, automobile, è molto Silicon Valley. Sì, però deve essere bellissimo. Bellissimo. E, scusatemi, ultimo inciso, poi magari passiamo oltre. Non so se sapete che Tesla, e torniamo sempre qua, ma il signore Elon Musk progetta e costruisce, oltre alle auto elettriche, oltre a una serie di robe, a SpaceX, progetta e costruisce queste tegole per appartamenti, per case, che hanno integrati dei pannelli solari. Quindi, non i classici pannelli solari orribili blu, che fanno davvero raccapricciare, ma ha sviluppato e brevettato questo sistema di tegole, proprio che sembrano tegole normali canadesi, che hanno incorporato un pannello solare. Io ho visto un articolo... Sarà un caso? Ho visto un articolo qualche settimana fa di un brevetto molto simile, ma erano pannelli solari posizionati dove ci sono le rotaie del treno, dove ci sono quelle traverse di legno. Sì, proprio i pannelli solari, così mi immagino per migliaia di chilometri, cioè quanta energia possano fornire. Sì, l'idea... Perché a volte ci si chiede, ok, ma è come nel deserto, mi pare, non vorrei dire una stronzata, ma del Sahara. Sì, penso anch'io. Hanno messo... Una città di pannelli solari. Esatto, un'area enorme di pannelli solari. Dici, cavolo, ma ok, però non possiamo riempire tutto il deserto, ma dove li mettiamo? In realtà ci sono tanti spazi, come hai detto tu, urbani anche, che prima non avremmo mai immaginato dove si potrebbe effettivamente... Sì, sì, dalle tegole del tetto ai binari del treno. Esattamente. Quindi, insomma, la risposta è sì, ma con responsabilità? E questa è la risposta che diamo oggi? Sì, ma con organizzazione. Con organizzazione. Perché si potrebbe fare, ma dal dire al fare, c'è lì in mezzo le rotaie del treno, le tegole del tetto. Bene. Beh, interessante. Fateci sapere cosa ne pensate, perché è un argomento molto attuale. Come sempre, ragazzi, ci piace comunque aprire anche... Cioè, siamo sempre aperti a dei dibattiti con chi ci ascolta, chi ci guarda. Quindi, fateci sapere davvero anche la vostra opinione, perché... Commentate, contattateci sui nostri profili social e noi saremo ben felici di rispondervi. Esatto. A proposito, vi ricordiamo che ci trovate innanzitutto sulle piattaforme principali di streaming, quindi Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox. Perfetto. In più... Studiato. Siccome non ci bastava, siamo anche su YouTube. Quindi ci potete vedere anche in video e gli stessi episodi che trovate in audio li trovate anche su YouTube. Esatto. Passerei... passerei un pochino oltre e andrei al prossimo argomento che secondo me è ancora più concreto del primo, perché vi abbiamo promesso di parlare di forme di acquisto delle automobili. Non so se avete notato questo cambio di paradigma quando ci sono le pubblicità delle automobili nuove. Quando io ero piccolino mi ricordo ancora la pubblicità della Chevrolet Matiz a 5.990 euro. Ok? Ma perché? Perché soprattutto sulle auto economiche il dato fondamentale da cui partivano era un prezzo d'attacco concorrenziale. Sì. Oggi quando tu vedi una pubblicità di un'auto ti dicono il tasso a partire da 199 euro al mese e ci siamo chiesti ma con 199 euro al mese o con X euro al mese hai davvero in mano una macchina? È più conveniente? È meno conveniente? Cosa hai incluso? Allora ci siamo messi dall'alto delle nostre capacità economiche Esatto Abbiamo preso Calcolatrice Carta e penna Calcolatrice alla mano Ricordati da dove vieni Calcolatrice alla mano e abbiamo fatto questa simulazione Abbiamo confrontato innanzitutto due categorie diverse di autovetture proprio due segmenti di vetture diverse per accontentare un po' tutti tra virgolette Esatto Quindi abbiamo scelto una Renault Clio che per praticità abbiamo scelto con un allestimento business abbastanza generico e motore base a gasolio Ok E abbiamo poi scelto un'automobile di fascia sicuramente più alta l'Alfa Romeo Stelvio L'abbiamo scelta in realtà innanzitutto perché sono auto nel loro segmento abbastanza diffuse e abbastanza vendute e anche soprattutto perché abbiamo avuto la possibilità di trovarle in tutte le tre forme di acquisto che oggi vi vogliamo illustrare Esatto Che sono Franci Noleggio a lungo termine Leasing finanziamento e acquisto Esatto Dai descriviceli un po' Allora Noleggio a lungo termine c'è poco da spiegare lo spiega lui stesso uno non diventa proprietario del veicolo semplicemente paga un canone mensile per poter usufruire del veicolo e all'interno di questo canone c'è compreso tutto per cui uno non si deve preoccupare della manutenzione sia ordinaria che straordinaria del cambio gomme del bollo dell'assicurazione assicurazione anche casco per cui è veramente tutto incluso basta che chiama il suo noleggiatore e dice guarda vorrei cambiare le gomme e può avere tutti i servizi che vuole poi passiamo al leasing o il finanziamento ci sono delle differenze ovviamente tra leasing e finanziamento il leasing ti permette di utilizzare un veicolo anche se tu al momento non sei proprietario puoi decidere alla fine di tutto il tuo contratto di far valere il tuo diritto di riscatto per cui di pagare una cifra finale per poter diventare proprietario dell'auto col finanziamento oppure di renderla alla concessionaria oppure di renderla chiaramente oppure il finanziamento ti permette di diventare subito proprietario dell'auto e pagarla a rate esatto semplicemente suddividi il tuo pagamento nel corso del periodo del contratto di finanziamento pagando degli interessi ovviamente noi però ci siamo chiesti ma dato che di fatto ormai sia nei finanziamenti soprattutto allora il noleggio per sua natura include già tutti questi servizi però di fatto dipendendo ovviamente dalla marca del veicolo però tipicamente anche i finanziamenti che ti offrono le case automobilistiche hanno già inclusi alcuni di questi servizi per cui di fatto a fronte di una cifra totale che te devi pagare che sembra più alta dell'acquisto ci siamo chiesti ma se noi compriamo un'auto la teniamo per 4 anni mettiamo e paghiamo di tasca nostra tutti i servizi inclusi nel noleggio o nel finanziamento in soldini che è quello che conta contando anche il valore residuo del bene ovviamente per cui ponendo in essere di venderlo dopo 4 anni quindi tornando proprio a ground zero esatto cosa ci resta in tasca quanto abbiamo speso chiaramente ragazzi sono stime e sono calcoli fatti con i dati trovati online fatti con i dati trovati online poi ecco se volete scendere nel dettaglio chiaro che bisogna fare ovvio ognuno il proprio preventivo su quello che necessita diciamo che allora vi diamo un pochino di idea per farvi capire come abbiamo fatto questa analisi esatto per darvi un'idea i dati fondamentali sono valore di acquisto che abbiamo scelto prendendo delle auto nuove quindi non chilometri zero ma comunque già scontate in concessionaria quindi non prezzo di listino ma diciamo un prezzo medio di acquisto che abbiamo trovato e c'è una grande differenza abbiamo notato sì esatto perché sono sconti importanti e talvolta per alcuni modelli ci sono sconti importanti secondo dato per far le stime su il calcolo del premio assicurativo abbiamo preso per entrambe le nostre auto un'assicurazione online ma di fascia media normalissima che ci sembrava corrispondesse a una situazione realistica confrontando anche un pochino le nostre esperienze e ovviamente questi sono i nostri pareri idem per il valore residuo abbiamo stimato di vendere a una concessionaria online la nostra automobile però del modello precedente è di 4 anni ovviamente quindi in modo da avere dei dati più o meno realistici e adesso vi facciamo vedere cosa è saltato fuori cosa è saltato fuori sì chi ci guarda da youtube potrà vedere lo schermo in questo momento esatto altrimenti comunque penso nella gallery poi pubblicheremo queste slide potrebbero essere utili per tutti allora partiamo dalla Renault Clio Renault Clio business DCI 75 cavalli prezzo di acquisto 16.500 euro con una serie di oneri di cui vi abbiamo parlato assicurazione casco gomme manutenzione anche bollo totale per 4 anni compresa la casco 23.500 euro valore residuo 5.900 quindi una spesa netta annuale di 4.400 euro che cosa significa? significa che se noi teniamo quest'auto per 4 anni e poi la rivendiamo tutto compreso tranne il casolio e la benzina ovviamente alla fine ci è costata 4.400 euro all'anno con l'acquisto puro quindi vai dai tuoi 16.000 euro al concessionario assegno bonifico quello che è certo seconda formula noleggio innanzitutto vedete quanto è molto più semplice abbiamo zero anticipo esatto una rata mensile di 395 euro durata 48 mesi diciamo che più la classica 4 anni 4 anni e qua abbiamo tutto incluso per cui tutte quelle voci che prima avete visto spezzate nell'acquisto qua sono incluse nella tua rata voi sapete quanto dovete spendere al mese tagliandi poi andate in concessionario fate quello che dovete fare sapete che la vostra rata è tot esatto alla fine abbiamo stimato che prendendo un'auto di questo tipo per cui identica la precedente noi avremo un costo medio annuale di 4700 euro quindi acquistando la nostra Renault Clio con questa tipologia di possesso perché di fatto non è un acquisto spenderemo in media 340 euro in più all'anno che non sono pochi ma hai ovviamente il benefit del poterti sbattere di ogni tipo di cosa chiaramente teniamo le riflessioni per la fine fai un servizio chiaramente le formule di noleggio hanno un chilometraggio annuo ovvio ovvio scusate ci si sono dimenticati di dirlo ovviamente abbiamo impostato come limite 15.000 chilometri all'anno che sono il valore medio infine finanziamento finanziamento ovviamente abbiamo cercato sul sito di Renault Italia dai sciogli dai dati abbiamo sempre un anticipo zero anche in questo caso una rata mensile di 520 euro durata il finanziamento sempre 48 mesi assicurazione di 3 anni ok perché essendo un finanziamento quindi tu sei proprietario dell'auto Renault ti dice io l'assicurazione te la regalo cioè te la includo nel finanziamento ma solamente per il primo anno quindi per gli altri 3 dovremo pagarcela noi poi anche qui ecco ogni casa fa la sua politica insomma sono esempi ecco ricordatevi questo totale per 4 anni 29.000 euro e 400 e valore residuo 5,9 una spesa netta annuale che stavolta si alza di parecchio non di poco 5870 euro quindi contando comunque di venderla successivamente cioè una spesa alta poi ovviamente noi nei 1280 euro di assicurazione per fare una comparativa giusta abbiamo inserito anche la casco quindi per un'auto di questo segmento Renault poi ovviamente se andate su altri marchi le forme di finanziamento sono molto diverse molto molto varie ognuno ha la sua in questo caso di fatto il noleggio e l'acquisto su un'auto che volete tenere 4 anni vi ricordiamo di fatto si equivalgono con la differenza che hai molti meno sbattimenti nel noleggio nel senso che paghi la tua rata e soprattutto non hai l'esborso iniziale massiccio esatto quello stavo per dirlo anch'io cioè non ti privi di un capitale iniziale che magari potresti utilizzare peraltro investire in qualche altro modo quindi questa secondo me è la differenza principale allora poi sapere di di non aver pensieri davvero cioè io domani mi alzo è una comodità 300 euro ragazzi le abbiamo in tasca davvero tutti tu ti alzi domani mattina vai a prenderti una macchina nuova con 300 euro questa cosa qua per me è devastante davvero devastante è vero è vero poi si la pago di più però ok però i casi sono due o metti via per un po' di anni fino ad arrivare a 16.000 euro e poi te ne privi di colpo altrimenti fai così poi è chiarissimo che su un'auto di questo tipo che viene tenuta più anni poi chiarissimamente più la vuoi tenere più la forma dell'acquisto è vantaggiosa esattamente questa è una premessa da fare questa è la premessa questi sono dati dove ti dicono che in questo caso ti conviene se fai 15.000 km l'anno e se non la tieni per più di 4 anni chiaramente noi abbiamo ragionato su questo orizzonte temporale o su altri orizzonti temporali o più corti o più lunghi ci sono altre mille altri tipi di ragionamento proseguirei e andrei sulla seconda classe perché qua siamo rimasti decisamente sorpresi esatto perché qui siamo andati su un alfa romeo stelvi un segmento decisamente superiore nell'allestimento business nascù 490 cavalli per cui un allestimento di tutto rispetto direi andrei direttamente ai numeri andiamo prezzo 51.000 euro acquistata nuova contando di vari sconti e incentivi assicurazione 1.700 questa anche come prima andando a cercare su un sito di un'assicurazione media abbiamo trovato questo prezzo di 1.700 comprensivo di casco gomme manutenzione bollo siamo arrivati a un totale per 4 anni con la casco di 67.500 con un valore residuo garantito di 18.000 circa quindi siamo arrivati a dire che abbiamo una spesa netta annuale di 12.375 acquistando l'automobile acquistando l'automobile quindi 12.000 euro circa scegliendo invece di noleggiare l'auto abbiamo esattamente come prima una formula molto semplice in cui abbiamo un acquisto di fatto irrisorio scusatemi un anticipo di fatto irrisorio secondo me per questa classe di autovettura quasi 5.000 euro e una rata fissa mensile 740 di 740 euro questo ci ha portato a un risultato secondo me strabiliante esatto perché abbiamo calcolato una spesa totale suddivisa sugli anni per cui ogni anno spendiamo circa 10.000 euro cioè ben 2.000 euro in meno rispetto all'acquisto puro passiamo all'ultima forma che finanziamento di finanziamento in questo caso è tutto con tutte le insomma i crisi del caso poi se avete pazienza e volete entrare un pochino più nel dettaglio andrete a vedere insomma la gallery oppure la slide che pubblicheremo insieme al video e qua vedete che avremo abbiamo stimato una spesa media annua di 10.000 euro di nuovo 10.900 10.900 leggermente di più rispetto al noleggio a lungo termine qua secondo me è il vero salto perché forse sulle auto piccole la differenza è poca con piccolo valore la differenza è davvero insignificante o comunque boh non so sono auto talmente sono auto per esempio su cui la casco magari non sei spinto a farla che magari compri e tieni tanto tempo tipicamente perché sono auto un pochino più così anche da battaglia in generale il valore totale essendo molto minore si fanno dei ragionamenti diversi esatto invece su queste auto costose cavolo la differenza è davvero tantissima perché 2.000 euro all'anno su 4 anni diventano 9.000 euro poi nel nostro calcolo totale e qua la differenza secondo me si fa sentire anche perché uno che accede a questa classe di automobili è anche magari proprio quella stessa persona che tende a cambiarla anche più spesso più spesso vero quindi cavolo questo io lo trovo una differenza davvero rilevantissima oltre al fatto poi che le partite IVA alcune hanno la possibilità di scaricare questi acquisti quindi tantissimi davvero tantissimi sono i discorsi che si potrebbero fare da questo punto di vista finanziari proprio esatto parlando di io per tirare un po' le fila mi sentirei di fare un ragionamento del tipo il noleggio a chi conviene il leasing a chi conviene e l'acquisto a chi conviene ok dai allora partendo dal noleggio secondo me il noleggio conviene a chi vuole un servizio che gli garantisce una certa comodità zero pensieri zero pensieri potrebbe essere uno spot zero pensieri l'auto sempre aggiornata esatto l'auto sempre aggiornata ogni quattro anni per cui sei sempre al passo con i nuovi modelli con le nuove tecnologie con la nuove sicurezza esatto oppure a chi si trova in una situazione di transizione dove magari non vuole comprare un'auto impegnandosi con una certa cifra sapendo che magari poi si deve trasferire e ha bisogno comunque di un'auto per qualche mese e allora pensa ad un noleggio a lungo termine di 12 mesi magari l'acquisto a chi conviene l'acquisto sicuramente conviene a uno che ha un'ottica di più lungo periodo quindi che vuole tenere l'auto per più tempo e quindi dice vado la compro me la voglio tenere diventa mia non sono interessato a servizi extra per cui la casco per esempio oppure faccio pochi chilometri quindi di avere il pacchetto manutenzione non mi interessa perché la faccio una volta ogni tre anni insomma l'acquisto secondo me interessa questa fascia di persone o a chi insomma un po' vecchio stile dice io voglio una cosa che sia mia e anche perché vi ricordiamo con il noleggio alla fine dei quattro anni l'auto la devi rendere ovviamente col finanziamento si la devi riscattare ma devi ovviamente pagare la maxilata finale quindi boh il finanziamento invece il leasing leasing finanziamento a chi conviene a chi conviene beh sicuramente a chi magari ha un'impresa quindi si una fascia un pochino di mezzo forse liberi professionisti insomma a chi ha un regime fiscale diverso e che può essere agevolato con questi tipi di acquisti oppure ma anche semplicemente a uno che la vuole acquistare esatto e vuole tenersela anche un ragazzo cioè voglio dire a chi vuole certe comodità del noleggio con poi la possibilità di riscattarla esatto questo è forse la chiave del finanziamento perché te puoi scegliere di tenertela poi e adesso vorrei mettere in guardia i nostri ascoltatori perché online si trovano tanti annunci che cercano di far noleggiare per forza un'auto senza spingerti a fare un confronto come abbiamo fatto noi del tipo comprando oggi una macchina diesel rischiamo di avere un rottame che non vuole avere più nessuno tra pochissimi anni e questo è il primo pressing che fanno un altro è dopo pochi anni infatti si rischia di avere un catorcio di elettronica che ha bisogno di continua manutenzione che riduce molto le sue prestazioni pensate ai cellulari e come decadono le prestazioni dopo pochi anni marketing aggressivo questo paragonato alle panda 4x4 anni 90 rispetto alle auto di oggi ho capito esatto però ecco state attenti pensate con la vostra testa e pensate a quali sono i vostri obiettivi nell'acquisto di un'auto no? si non c'è una modalità predefinita che è favorevole ma bisogna valutarla in base alle proprie esigenze voliamo direi che l'argomento l'abbiamo esaurito esaurito fateci delle domande ovviamente come al solito se volete saperne di più se avete qualche dubbio se abbiamo sbagliato qualcosa magari fatecelo sapere esatto quindi adesso che abbiamo guardato le varie modalità di possesso chip raccontaci come non possedere nulla per sei mesi invece allora non avere un'auto per sei mesi è davvero difficile nel senso che si è abituato insomma a tutto quello che fai prendi l'auto ti sposti fai sbrighi qualsiasi ora del giorno in autonomia in autonomia e insomma per uno scherzo della vita una decisione della vita mi sono trovato a vivere sei mesi in Inghilterra in Erasmus quindi niente di che è in Erasmus quindi ovviamente non è che mi porto la mia macchina fammi un po' da ridere ero in una cittadina al centro dell'Inghilterra che si chiama Nottingham la conoscerete per Robin Hood facci vedere celeberrima e niente semplicemente io vivevo in centro città di fatto di questa città da circa 100.000 abitanti e mi sono mosso sempre senza automobile all'inizio vi confesso che è stato difficile abituarsi a questa nuova vita hai patito nel senso che oddio poi vivendo in città di fatto ero a due minuti a piedi dall'università a tre minuti a piedi dalla via dei locali c'erano McDonald's ristoranti ovunque bar ovunque insomma una città una bella cittadina non hai mai avuto bisogno di spostarsi esatto per lo spostamento in sé non era un grandissimo problema il problema nasceva nel momento in cui sai sei in un paese nuovo vuoi muoverti fuori dalla città un pochino per visitare esplorare senza fare 500.000 km ma già solo i 100 km per arrivare alla città vicina e la cosa un pochino così assurda è che mi sono trovato a fare cose che in Italia non avrei mai fatto tipo autostop del tipo autostop no però insomma vi racconto un pochino com'è la situazione mezzi pubblici in Inghilterra nel Regno Unito hanno un sistema di treni molto efficiente ma costosissimo ma davvero costosissimo se voi pensate che le frecce sono costose pensate per farvi rendere un pochino l'idea quello che una freccia in Italia costa su un certo tratto chilometrico in Inghilterra lo paghi su un regionale per farvi un pochino ok entrare nel mood e per cui ovviamente figurati Erasmus con 10 euro in tasca quando andava bene volevi fare poi un viaggio a weekend perché figurati quando è che ma che mi capita nella vita di così lontano e quindi no il treno non era un'alternativa da considerare il noleggio dell'auto l'ho valutato già solo per l'ebrezza di guidare dalla parte sbagliata ma di fatto era inattuabile perché perché numero uno devi avere una carta di credito e io allora una carta di credito non l'avevo non l'avevo mai attivata non ne avevo mai avuto bisogno quindi già ero fermo in partenza e per di più la se non hai 25 anni trovare una persona che ti noleggi l'auto è praticamente impossibile oppure te la noleggia una cifra altissima la proprio no perché altra caratteristica dell'Inghilterra è un paese molto basato su non su piccole aziende come in Italia ma è molto orientato alle multinazionali quindi le multinazionali hanno delle politiche fisse stabilite e credetemi abbiamo guardato non ci siamo riusciti non riesci ad andargli e parlarsi dai esatto no non esiste io conosco dai quindi cosa rimane rimane il pullman il pullman che era stato il mio incubo alle superiori lo odiavo flixbus in Italia non l'ho mai preso in Inghilterra invece esistono questi tipo flixbus hanno altri nomi ma ve lo giuro sono stati il mio mezzo di spostamento principale per sei mesi io tutte le domeniche per andare nelle città vicine a Nottingham così io fare i miei veggettini prendevo questi autobus tutte le domeniche mi alzavo praticamente alle 5 di mattina alle 6 partivo da Nottingham e facevo 3 ore di pullman per andare dove volevo andare perché bene o male era quello il tempo che impiegavo e la sera partivo alle 8 alle 10 insomma dalla città dove ero e tornavo a Nottingham per cui altre 3 ore morale niente ragazzi vabbè la sfacchinata praticamente 6 mesi di Erasmus in cui weekend si e weekend pure mi facevo 6 ore di autobus beh però l'autobus è silenzioso abbastanza comodo no? allora è comodo nel senso che poi ero talmente mi ero abituato talmente tanto che poi figurati se sei in Erasmus la sabato sera non esci non vai a ballare vabbè per cui praticamente arrivavi sul pullman alle 6 di mattina che eri praticamente ancora sveglio dalla sera prima per cui mi ero talmente abituato io che non dormo mai in auto a dormire sull'autobus tutte le volte beh dai ti culla un po' l'autobus poi però ti fermo perché tu sei forse abituato agli autobus Gran Turismo quelli delle gite con l'oratorio Gran Turismo addirittura no il pullman di National Express in cui ci sale il mondo coronavirus salta addosso anche coronavirus lì che ti prendi nel senso sì 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 ma e poi quando sei tornato in Italia come hai vissuto il ritornare cioè immagino che tu l'abbia vissuto con grande felicità allora nonostante mi fossi quasi affezionato a questa forma di trasporto che ti dà molti meno pensieri rispetto all'auto e credetemi costavano pochissimo perché per fare tratte da 150 a 200 miglia per cui 300 chilometri spendevi davvero 5 o 6 sterline per cui pochissimo se hai una giornata prestabilita e dici domani vado lì bravissimo sai che sei lì noi lo premonitavamo anche un paio di giorni prima esatto e era comodissimo però vi confesso che cioè arrivi sali sulla tua macchina la accendi anche se e vai dove vuoi soprattutto anche se quando sono tornato mi ricordo dopo 6 mesi che non guidavo mi è sembrato di rimparare ho fatto ho fatto non credevo beh come 3 mesi di lockdown da coronavirus anch'io la prima volta che sono salito che bella no ho fatto davvero fatica mi sembrava di innanzitutto non sapere più usare la frizione perché il piede ovviamente non era più abituato ma soprattutto ho davvero fatto fatica a riabituarmi alla velocità alla velocità si è vero quando non guidi da un po' ti sembra subito che vada fortissimo mi sembrava di cioè di essere proprio in preda a un mezzo che non era nel mio controllo di una cosa fasta vedi le vecchiette che ti superano e tu sei eh anche le proporzioni ho fatto un po' fatica però vabbè dai cosa parliamo fattibile cose che si superano bene bene ragazzi se avete anche voi fatto esperienze del genre vi invitiamo a condividerle con noi Erasmus fatevi sentire so che siete so che ci siete è vero internazionali anche ci sono arrivate già foto di monopattini e biciclette nella neve quindi se ve le siete persi è perché non ci seguite su Instagram esatto quindi dai vi salutiamo vi ringraziamo per averci seguito vi annunciamo per la prossima settimana una bella novità avremmo dovuto forse dirvelo prima ma ci siamo dimenticati forse solo per i fedelissimi che arrivano fino al minuto non so 29 minuto X settimana prossima vai dillo ci sarà in questa stanzettina un ospite non per sminuire quelle che abbiamo avuto prima però un ospite di un certo spessore sarà infatti con noi Andrea Cartapani di Andrea Carls & Moore che è una pagina seguitissima quasi 20.000 follower quanto su Instagram non so quanti iscritti su YouTube però un ospite davvero che siamo onoratissimi di avere qua con noi molto interessante vedrete e considerando anche la persona e la sua ruolo anche per quello che sta studiando secondo me ci saranno davvero tanti spunti molto interessanti da non perdere da non perdere quindi niente vi salutiamo vi ringraziamo vi invitiamo a seguirci mettete mi piace commentate commentate fatteci sapere quello che volete a domenica prossima sempre alle ore 20 StrayPipe Club Podcast ciao alla prossima ciao